Questa è una parour completamente fatta a mano. Anche la parour, signori! Attenzione! Guardate! Se chiamate adesso anche la parour, ma vi rendete conto? Anche la parour, signori, attenzione! Anche la parour, dimenticate la bellezza di Giusele. Sono brutti! Dimenticate li! Ma è un grande investimento! Vi ho aggiunto, signori, il punto luce da 300 mila lire, il Valentino da 600 mila lire, la parour da 800 mila e la noi nuovo da 3 milioni! Sono, signori, attenzione! Vieni qua! 2 milioni, 450 più? Più 2 milioni, 4 milioni e 7 di Giusele in più! Il punto è 199 mila! Signori, attenzione! Vi mando i gioielli in casa! Vi faccio passare la mia etere!